buonasera benvenuti a sette e mezzo parliamo di economia questa sera buonasera e benvenuto anche ad andrea silvestri buonasera paolo relationship manager di eric save capital azienda bresciana che si occupa appunto di investimenti per accumulo e tutto quello che può riguardare il risparmio e proprio da qui partiamo e partirei andrea questa sera perché siamo nel pieno del btp valore ha avuto un exploit è il caso di dire quindi sappiamo che sono comunque prodotti a tempo innanzitutto ma la prima domanda che voglio fare a ti è quella di cercare di capire perché ha avuto successo perché il btp valore è così volato secondo te chiaro allora le motivazioni sono molteplici ovviamente non c'è solo una motivazione che ha portato uno strumento finanziario a riscuotere così successo nel campo retail quindi nel campo degli event dell'investitore medio del piccolo risparmiatore sicuramente alla base c'è un concetto culturale italiano del titolo di stato per l'appunto il btp valore è un titolo di stato emesso quindi dal nostro dalla nostra nazione che ha portato le masse tanti piccoli risparmiatori però non un grosso investitore li ha portati a decidere e optare per questa tipologia di investimento il secondo motivo principale è sicuramente una fortissima campagna di marketing che questo prodotto ha sicuramente avuto basti pensare che i canali televisivi le radio i post sui vari social hanno spinto tantissimo ad andare a investire in questo in questo prodotto qua per cui l'unione della cultura già fortemente consolidata dello strumento finanziario di tipo titolo di stato e una campagna marketing ha fatto sì che in pochissimi giorni si siano raccolti all'incirca 14,2 miliardi perché l'ultimo dato era questo. Significa anche che comunque quando c'è un prodotto affidabile l'investitore risponde? Allora questo è proprio il discorso relativo alla cultura italiana perché se si fa in altri stati non che non ci siano i titoli di stato perché ovviamente ogni stato emette per in relazione al proprio debito dei titoli dei titoli di stato ma c'è meno appeal dal punto di vista del retail quindi dell'investitore del piccolo risparmiatore come abbiamo già detto e la motivazione è proprio è proprio quella che si identifica il concetto del titolo di stato come un titolo sicuro ma sono diversi i fattori che fanno sì che uno strumento possa essere sicuro o meno sicuro non è detto che questo non lo sia cioè non c'è solo il titolo di stato sostanzialmente assolutamente sì è quello è sicuro ecco hai parlato di un obbligazione quindi spieghiamo un po che cosa vuol dire e cosa intende si intende per obbligazione certo allora obbligazione è uno degli strumenti finanziari più conosciuti in ambito in ambito finanziario insieme alle azioni che cosa prevede l'obbligazione semplicemente è come se fosse un prestito che si fa a un in questo caso a all'italia intesa come stato ma anche un può essere anche un obbligazione corporate quindi un prestito che viene fatto alla società che mette l'obbligazione la quale si impegna a ritornare il capitale investito con un tasso di interesse in questo caso che cosa succede con il con il btp valore io vado acquistare si dice alla pari quindi a 101 un pezzo dell'obbligazione e mi viene ritornato con un tasso con un tasso di interesse che nella fattispecie del btp valore è per i primi due anni altre 25 per gli anni successivi quindi il terzo e quarto perché ha una scadenza e quattro anni viene remunerato al 4 per cento ecco abbiamo parlato appunto di remunerazione e prima di andare a vedere poi di tornare sul btp vorrei tornare invece vorrei andare su dei prodotti analoghi cioè voi siete rexave un'azienda che appunto accompagna investitori aziende ma anche privati e quindi anche perché comunque poi prodotti come il btp valore apre chiude in un lasso di tempo anche abbastanza breve e quindi diciamo che in altri periodi non c'è questa opportunità cosa c'è per avere una rendita di questo genere oppure similare e similare anche però un po nella sicurezza certo allora e prodotti analoghi esistono nel senso che ma lo stato stesso oggi c'è il btp valore ultimamente abbiamo sentito parlare di btp futura che è stato appena post covid comunque i btp sono sempre presenti e anche altri titoli di stato con acronimi simili giusto per per intenderci non solo non si possono acquistare solo titoli di stato esistono come dicevo prima obbligazioni corporate che cosa cambia tra le due che il rischio nei titoli di stato è sostanzialmente ovviamente l'andamento del paese e quindi il probabile default del quindi fallimento dello stato mentre invece perché difficile pensare che c'è uno stato come l'italia fallisca sostanzialmente non è chiaro non può succedere però è esame moto esatto e allo stesso allo stesso tempo per le corporate c'è il rischio del fallimento dell'azienda per cui noi come come società possiamo sempre affiancare l'investitore nella scelta del dell'obbligazione più interessante non dico più sicura perché non si può parlare di sicurezza anche nelle obbligazioni anche se c'è da fare un piccolo excursus dal punto di vista di sicurezza finanziaria è il grado quindi il ranking di rimborso ovviamente il titolo obbligazionario è rimborsabile prima rispetto ad esempio all'azione in caso di default per cui sì se in questo caso vogliamo parlare di possibile sicurezza sicuramente possiamo dire che è uno strumento più conservativo rispetto all'azione ma non è a rischio zero ovviamente così come il btp valore non è a rischio zero questo deve essere ben chiaro certo ma è la rendita e la renditività può essere cioè di una di una corporate che quindi che ha un rischio maggiore di uno stato di fallire ovviamente a una redditività che può essere superiore a questo 3 4 per cento del btp valore assolutamente sì infatti anche il la remunerazione del pd del btp valore è strettamente corre correlata allo stato di salute del del paese l'italia che dirsi voglia comunque è un paese che attualmente riesce a garantirci questi questi rendimenti se noi dovessimo andare a prendere uno stato sicuramente più volati da dal punto di vista politico sociale o comunque altre tipologie di contesti mi permetterà di avere un rendimento nettamente superiore così come per le aziende quindi le cosiddetti bond sulle corporate sono sicuramente più redditizi rispetto a dei titoli di stato questa è la principale differenza pur mantenendo una certa prudenza quando si scelgono assolutamente sì infatti ovviamente come noi consigliamo sempre nella selezione degli strumenti finanziari e quindi nell'affiancamento al nostro al nostro cliente noi dobbiamo sapere assolutamente innanzitutto quale l'orizzonte temporale perché esistono delle obbligazioni anche a 20 anni per cui il capitale è impegnato certo per un periodo per un lasso temporale abbastanza importante e qual è l'obiettivo di rendimento perché esistono obbligazioni che possono tranquillamente dare oltre il 10 per cento così come titoli estremamente sicuri magari con durata di sei mesi che danno lo 0,5 per cento per cui è molto molto ampio il contesto obbligazionario quindi da questo punto di vista è l'analisi alla fine che stabilisce il partendo da e dalla tempistica assolutamente sì come si rimborsa invece il btp valore cioè chi io investo compro un btp valore poi come vengo rimanerato non rimanerano se effettivamente dove vado dove vado a guadagnare e come esatto alla fine il motivo del perché andiamo ad investire sono un protezione del capitale e remunerazione per cui la domanda è plausibilissima allora è innanzitutto come si investe in questo strumento prima di essere remunerati noi possiamo affiancare nel nell'acquisto e il btp valore proprio per la campagna di marketing di cui parlavo poco prima e lo si può acquistare praticamente dappertutto tramite un banking e e altre piattaforme come viene rimborsato allora innanzitutto il termine rimborso lo andiamo a interpretare alla scadenza quindi il prodotto rimborsa si dice alla pari ovvero al suo valore al suo valore nominale mentre invece le cedole per quanto riguarda questo strumento e sono rimborsate in forma semestrale per cui come dicevo prima a una struttura si dice step up ovvero le obbligate le cedole inizialmente sono più basse mentre invece negli ultimi due anni abbiamo un innalzamento della cedola fino al 4 per cento permettimi di precisare un'ultima cosa e paolo su questi tassi e che comunque sono all'ordo di delle tasse quindi non è effettivamente il rendimento quindi il tasso di rendimento reale questo che sarà sicuramente più quindi questo è il tasso di rendimento lordo esatto delle imposte si dice nominale nominale ecco l'ultima domanda invece è partendo dal presupposto che come dicevamo ad esempio il btp valore ha una tempistica quindi a un tempo chiude e quindi non si può non si può acquistare determinati periodi altra cosa è come dicevi se si rivolge anche a un pubblico retail cioè un pubblico privato quindi non solamente è un pubblico di investitori oppure un pubblico di un pubblico di aziende come come rig save come indirizzate il retail e la clientela privata in questi momenti cioè quando non c'è più il btp valore chiaro assolutamente allora il il btp valore nasce con un taglio di mille di mille euro così come numerosi prodotti che noi possiamo offrire alla nostra clientela perché essendo per l'appunto un prodotto per il piccolo risparmiatore si cerca di agevolarlo e poterli far investire delle piccole delle piccole somme per avvicinarsi al mondo della al mondo della finanza e come noi diciamo sempre soprattutto in prima persona mi sento di chiedere sempre qual è il la propensione al rischio del del cliente pertanto un investitore retail ha ampissima scelta nel contesto obbligazionario e se il profilo dell'investitore è così affiancabile allo strumento obbligazionario noi sicuramente possiamo offrirgli anche alla scadenza del btp valore un altro strumento forse anche più redditizio bene visto che ormai siamo alla fine del btp valore eventualmente vi indirizziamo a rig save capital che a brescia in corso tardi alle 38 15 potete andare anche fisicamente sia che sia della città o della provincia insomma non è un grandissimo viaggio e mediamente e avere anche appunto una una panoramica più completa fosse il caso di dire per voi che volete appunto investire grazie andrea silvestri grazie per le delucidazioni anche perché abbiamo sentito molto parlare di btp valore quindi ci sembrava giusto andare ad affrontare un po l'argomento proprio questa sera grazie a voi brevissima pausa e poi torniamo con la seconda parte di sette e mezzo rimanete con noi seconda parte di sette e mezzo cambiamo completamente argomento parliamo di politica c'è stato ieri il primo consiglio comunale a brescia due momenti all'ordine del giorno sicuramente più mediatici più interessanti perché era una seduta molto tecnica il primo è stato il giuramento della sindaca castelletti pochi secondi l'altro era il nodo comunque politico che abbiamo seguito anche durante l'arco della settimana ovvero la scelta che è nata all'interno del partito democratico del presidente del consiglio comunale c'è stato un testa a testa in una punto all'interno del pd tra roberto cammarato e roberto rossini e alla vigilia del consiglio la scelta è caduta su roberto rossini ma è chiaro che poi la l'elezione la nomina la fa direttamente il consiglio comunale quindi espressione del partito democratico partito di maggioranza ma insomma c'erano anche c'era tutta la maggioranza che doveva scegliere roberto rossini tutto andato secondo le previsioni e allora vi facciamo vedere il momento in cui viene eletto roberto rossini e le sue prime parole e la nostra intervista da presidente del consiglio comunale noi ci vediamo domani sera alle sette e mezzo 20 voti roberto rossini roberto cammarata 12 viene proclamato presidente roberto rossini ringrazio i consiglieri comunali per per l'onore di eleggermi a presidente del consiglio permetterete un saluto e un ringraziamento affettuoso a chi mi ha preceduto a roberto cammarata per cui chiedo un applauso ringrazio i consigli per per l'onore di eleggio comunale per per l'onore di eleggio comunale per il a lavorare con lo stile che Roberto, ci chiamiamo allo stesso modo, ha impostato negli anni precedenti e cercheremo quindi di dare continuità a un lavoro che è stato citato anche in quest'Aula. Davvero ringrazio, ho usato la parola onore ricordando che la Costituzione all'articolo 54 dice che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione come appena ha dimostrato la Sindaca e i cittadini a cui sono affidati le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiole con disciplina ed onore. Peraltro questo articolo, l'articolo 54 della Costituzione è l'ultimo articolo che conclude la prima parte della Costituzione, come a dire che, la prima parte vi ricorderete quella dei diritti e dei doveri, come a dire che i diritti e i doveri sono riconosciuti, ma poi occorre anche uno stile, un valore, un modo di interpretare i diritti e i doveri con disciplina e con onore e credo che questo sia una particolare intelligenza della Costituzione di ribadire proprio all'ultimissimo articolo, poi c'è tutta la seconda parte, ma rispetto ai diritti e ai doveri il tema della disciplina e dell'onore e quindi vi ringrazio davvero per l'onore che mi avete fatto ad eleggermi Presidente del Consiglio e credo che in questa fase serva davvero responsabilità per essere una istituzione, perché in una fase di cambiamento, così come lo vediamo e come anche il nostro Consiglio Comunale registra nelle figure di cittadini non nati a Brescia, nella parità di genere, nei cambiamenti di età, nei cambiamenti demografici, siamo la dimostrazione plastica di un cambiamento e di essere istituzione nel momento del cambiamento è una cosa non facile e che richiede davvero, come hanno già sollecitato anche i consiglieri di opposizione, chiede un particolare senso di responsabilità, perché le Brescia sono tante, un giornale cittadino, un giornalista poneva questa domanda qualche giorno fa che mi è piaciuta e mi sono segnato e dice quante Brescia abitano in questa stessa città, quante Brescia ci sono sotto questo cielo, perché abbiamo avuto la Brescia dei Tafferugli, ma abbiamo avuto la Brescia che ha dimostrato una grande solidarietà nel tempo del Covid e in tutti i giorni nel tema del volontariato e nei comportamenti ordinari dei cittadini, abbiamo la Brescia della povertà, ma abbiamo la Brescia anche dell'impresa, della ricchezza, anche questa è Brescia, abbiamo l'impresa dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori a partita IVA, ma abbiamo la Brescia anche di chi rischia, di chi si assume il rischio di impresa, abbiamo la Brescia tecnologica, ma abbiamo la Brescia anche che fatica a trovare una connessione anche semplicemente umana, quante Brescia ci sono e tutte queste Brescia credo debbano trovare una forma di sintesi nel Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale che è il luogo della rappresentanza, è il luogo dove arrivano tutte le istanze che provengono dalla nostra città. Consenso, concludeva peraltro il giornalista, una cosa che mi è piaciuta, perché dice che le traiettorie si divaricano, ma quel che ha caratterizzato Brescia è sempre stata la capacità di tenere insieme, di legare, senza lasciare fuori nessuno e credo che questo senza lasciare fuori nessuno sia la cifra distintiva anche del nostro modo di interpretare, di vedere la città, tenere insieme, credo che sia un aspetto importante. Peraltro consentitemi una piccola variazione, io sono molto legato sul tema della Brescianità, una cosa che venne scritta all'Ateneo di Brescia ormai qualche decennio fa e che diceva ma Brescia che cos'è? Era una riflessione sul folengo che è un frate benedettino del 1500 e Ton interpreta un po' il pensiero del folengo e dice che la Brescianità sono i piatti, va bene, ok, d'accordo, però dice che alla fine la Brescianità è una realtà morale, un modo di vita, nel nostro caso fondato su una dura, questi sono gli aggettivi, dura, severa, affannata religione del lavoro, ma poi dice anche un'altra cosa, dice non solo la religione del lavoro che sappiamo ci caratterizza, che è un modo laico, aperto per condividere la costruzione di questa città, ma poi dice anche un'altra cosa più curiosa, dice che la Brescianità è anche pazienza nella vita e il lavoro in un consiglio credo che richieda anche la pazienza della mediazione, ma anche dell'attesa e poi dice amore per l'allegria anche un po' screanzata, come a dire che noi, provo a riassumerlo in un aforisma, forse non ci preoccupiamo, però ci occupiamo, siamo delle persone che hanno il senso delle cose, il senso della realtà, il senso della verità e cercano di occuparsi delle cose, credo che questo sia un aspetto che ci caratterizza tutti e sono valori sui quali è bene che in un consiglio comunale possano rappresentare il nostro modo di essere. Dico questo perché l'aula in cui parlo so che è l'aula dove una catena di nomi ci ha preceduto e in qualche misura questo genera l'emozione che a volte si ha nel parlare, noi siamo l'esito, siamo l'esito, ognuno di noi con queste facce, con queste storie, con queste biografie, con queste traiettorie di vita e l'esito di un processo lunghissimo di chi ha amministrato questa città, di chi ha parlato in queste mura, di chi si è diviso, ha preso decisioni e ha saputo affermare Brescia come realtà nazionale nota per la buona amministrazione, nota anche per il fatto che ci si può anche dividere, ci si può anche litigare, ma alla fine una sintesi virtuosa ha sempre caratterizzato la storia di queste città e questi muri, se potessero parlare, credo direbbero questo, ecco perché credo che l'emozione che un po' ci lega oggi, lega un po' le nostre parole sia dovuta al fatto che queste mura, questi muri, questi quadri, questi seggi dicono di persone che ci hanno preceduto e che hanno studiato, hanno lavorato, si sono impegnate per creare il bene comune di questa città, credo che il bene comune di questa città sia ciò che sta più a cuore tutti noi, tutti e credo che sia un valore importante, noi ci siamo e sappiamo esserci, consentitemi poi un pezzo finale, un fatto finale, un'ultima cosa, perché la brescianità è ciò che ci lega di più, è un valore, ma mi piacerebbe che il Consiglio Comunale o comunque poter essere promotore anche di un'apertura, perché che questa città potesse contribuire anche a promuovere il sentimento di altre città, una città che non si disinteressa del destino anche di altre città, che ha un'apertura, non è solo Bergamo con il quale in questo momento condividiamo un percorso e che sentiamo come città sorella, ma ci sono anche altre città in questo mondo che ci interpellano, penso ai grandi scenari, penso a Kiev, penso a Gerusalemme, penso a Mogadiscio e questo Consiglio Comunale, questi volti un po' dicono che noi dobbiamo avere anche un respiro alto, sentire che la nostra brescianità è tale proprio perché nel mondo questa brescianità c'è stata, come immigrati, come volontari, come persone che sono arrivate qui, come missionari, come imprenditori, Brescia ha un rapporto con il mondo e sentire il respiro dell'internazionalità credo sia un pezzo importante della nostra brescianità e lo dico con le parole di Giorgio Lapira, che lui diceva che in qualche misura tutte le città di questo mondo sono legate come, in modo particolare, come se fosse un fiume, una rete che lega le città di questo mondo nella solidarietà e nell'impegno verso la pace e nell'impegno verso la costruzione di un mondo più giusto. Credo che queste mi sono permesso di dire poche cose di ordine valoriale perché credo che la riscoperta di alcuni valori che ci uniscono sia un fatto importante. Detto questo, la mia porta sarà sempre aperta, sarà sempre aperta a chiunque intenda costruire una città più giusta, più aperta, più bella, più buona e lo farò con lo stile con il quale sono capace, sono quello che sono, metto le mie capacità, i miei talenti, le mie disponibilità in funzione e disposizione di questa giunta, di questo consiglio comunale, di questa città e di tutti i cittadini che vi partecipano. Vi ringrazio, aiutatemi a costruire un grande consiglio comunale. Sono molto emozionato, quest'aula ha visto la presenza di persone di straordinaria importanza, anche della mia formazione, penso a Trebeschi, penso a Martina Zoli, poi amici come Paolo Corsini, Emilio Del Bono, assessori, consiglieri comunali, penso che quest'aula trassudi intelligenza, trassudi passione, è un'aula importante, quindi sì, sono emozionato ma sono soprattutto onorato perché credo che questo sia un ruolo decisivo nel fare mediazione e la mediazione è l'essenza della politica. Dicevamo, è una sala carica di significato, ma poi il ruolo del Presidente del Consiglio comunale è davvero fondamentale in certi passaggi dell'attività politica e amministrativa? Sì, io credo che abbia due grandi ruoli, uno interno di mediazione tra le diverse anime delle anime della politica cittadina, gli elettori si sono espressi, qualcuno ha votato la maggioranza, qualcuno ha votato l'opposizione, quindi la capacità interna anche di mediare tra diversi partiti, liste, credo sia importante, però c'è anche una dimensione esterna perché c'è tutta una città che ha paure, desideri, sogni, riflessioni, impegni, attività e credo che sia importante non far mancare la voce dell'istituzione anche nei luoghi di tutta la città, cercherò di essere un Presidente che sta dentro, certo il Palazzo perché questo è il ruolo che mi è stato attribuito, ma cercherò anche di stare fuori, di accompagnare la città, di tenere l'istituzione sempre vicina ai cittadini.